Prepararsi a lasciare l'orbita terrestre. Abbiamo la ragazza tamariana. Una volta tornati a Centauri pagherai per quello che hai fatto. Nessuno riuscirà mai a portarla a... Questa mia amica rimane qui! No! Non riesco a controllare la nave! Oh, Rob! Vieni! Vieni! Stella! Robin! Tutto bene, ragazzi? Vai, Tansi! State pronti! In nome del grande impero di Centauri, vi dichiaro tutti in arresto. Siamo noi quelli buoni qui, non siete voi. E noi siamo la polizia di Centauri. La ragazza tamariana è una bugiarda e una ladra. Ha commesso innumerevoli crimini in tutto il sistema di Centauri. Non ci sono neanche mai stata sulle lune di Centauri. Ma io conosco qualcuno che c'è stato. Date la caccia alla ragazza sbagliata. Dov'è Amalia? Non preoccuparti, Stella. Non se la caverà così facilmente. Questo è poco, ma sicuro! Ciao, sereppina. Oh, sei arrabbiata. Lo so, avrei dovuto dirtene che me ne andavo, ma tu lo sai quanto detesti gli addi. Sei una criminale e avresti lasciato che mi mettessero in prigione al posto tuo! Ehm, beh... Sì. Tu restituirai tutto quello che hai rubato e ti consegnerai alla polizia, è chiaro? E cosa farai? Sentiamo se ti dico di no. Sono sempre la migliore nel combattimento. Una volta, ora non più! Amalia di Tamarana, ti dichiaro in arresto. Addio, sorellina, stammi bene. Anche se mi hai attaccato a tradimento, è stato comunque... È stato comunque un vero piacere rivederti. La prossima volta non sarà così piacevole. Riuscirò ad evadere, sorellina. E allora pareggeremo i conti. Ci puoi giurare! E allora andrò. Che feriti! Sì, questo è stato potente! Faccio funzioni! Quanto... Grazie a tutti